Ieri non c'ero, però conosco persone che erano presenti a scuola, ragazzi del convitto che dalle stanze sono stati cacciati e sono stati costretti a uscire dalla scuola chi lacrime perché è una cosa, diciamo, scandalizzante. Anche perché ieri avevo mandato anche i miei genitori a prendere i libri e non c'è stato permesso di riprendere i libri, quindi noi abbiamo anche il materiale dentro la scuola, non possiamo fare lezioni senza i libri o senza il materiale, quindi è veramente difficile. Noi non sappiamo dove andremo a finire, che cosa succederà, se la cosa sarà prolungata per mesi o per quanto tempo, anche perché sono cose che riguardano anni passati, non è una cosa attuale che è successo qualcosa adesso e quindi siamo a casa per questo, è una cosa che riguarda il passato perché si è visto anche con il Covid quanti problemi ci sono stati. Stando in didattica a distanza, stare fermi non si sa quanto tempo perché non sappiamo ancora quando ci metteranno in un altro istituto e comunque influirà a livello scolastico sia per l'andamento del programma di qualunque materia, ma anche per noi perché è uno stop abbastanza lungo e non è poi all'improvviso così. Ma la cosa più scandalosa è che dopo tutto quello che è successo riguardo il terremoto o altri problemi atmosferici, da 15 anni a questa parte ci ritroviamo in una situazione del genere assurda.